Arcelor Mittal è riconosciuto unanimemente il cancro di Taranto, ma purtroppo potrebbe essere davvero il detonatore del diffondersi a macchia d'olio del coronavirus qui a Taranto. Io ho massimo rispetto verso la figura del prefetto di Taranto, il dottor Demetrio Martino, ma aver consentito all'Ilva di continuare a produrre, seppure non per fini commerciali, e questa già mi sembra una caricatura, una contraddizione in termini, ma comunque consentire la produzione impiegando 3.500 unità lavorative dirette e altre 2.000 dell'appalto è una assurdità. E' un pericolo, signor Prefetto, lei ora si è assunta una responsabilità enorme, lei e chi a fianco a lei ha i vari organi tecnici o presunti tali che hanno concordato questa linea. E' assurdo, è vergognoso quello che lei, signor Prefetto, non si offenda, ha deciso di porre in essere, perché non è possibile che si era trovato un accordo tra le sigle sindacali ed Arcelor Mittal per 3.200 unità lavorative dirette e lei invece consente 3.500 unità, 300 in più. Arcelor Mittal e le sigle sindacali avevano trovato un accordo per 1.800 unità lavorative, lei invece ne consente, relativamente alle ditte dell'appalto, lei invece amplia il numero sino a 2.000 unità. In buona sostanza lei, signor Prefetto, ha consentito che altre 500 unità in più potessero potenzialmente ammorbare Taranto. Questo è il rischio, è che nessuno si scandalizzi dei miei toni molto duri. Io, signor Prefetto, massimo rispetto per lei, ma io devo dissentire completamente, perché con questa decisione, a mio avviso scelerata, con questa decisione lei mette a rischio non solo i dipendenti di Arcelor Mittal, ma lei mette a rischio una collettività intera, signor Prefetto, si rende conto di quello che ha fatto? C'è un rischio enorme, perché si dice dobbiamo realizzare, bisogna lavorare mantenendo, quindi muoversi con un metro, con la distanza di un metro, giustissimo. E poi tutto questo assembramento che c'è in Irma, che necessariamente ci sarà, perché stiamo parlando complessivamente di 5.000 unità, lei non le vede? Il discorso è molto più alto, signori cari. Le organizzazioni sindacali avevano chiesto il minimo tecnico, cioè quel numero minimo sotto le 1.000 unità lavorative, tali appunto da non spegnere gli impianti. Qui invece si consente la produzione, lo sottolineo per chi evidentemente non avesse ben capito la scelta del Prefetto. La verità è un'altra. Arcelor Mittal gode di una impunità assoluta. Nessuno la tocca, perché a Taranto si deve continuare a produrre, si deve continuare a uccidere, si deve continuare a far morire la gente di cancro, fuori dallo stabilimento e anche all'interno. Con una struttura che sta letteralmente crollando a pezzi si consente la produzione e quindi abbiamo un catorcio che da un momento all'altro potrebbe collassare e ora anche il coronavirus si deve inchinare paradossalmente davanti ad Arcelor Mittal. Ma vi rendete conto di quello che state facendo? Questa è una città abbandonata, condannata a morte. Nessuno ha fermato finora Arcelor Mittal, né la magistratura, né il Prefetto, nessuno. Questo è Taranto, signori cari. Però, però, signor Prefetto, io mi auguro che tutto vada bene, tutto. E mi auguro che non ci siano casi di coronavirus. Ma se minimamente la bomba dovesse esplodere all'interno dello stabilimento, ognuno si assumerà le proprie responsabilità penali enormi, enormi. Pensate un po'. In Italia è bloccata la produzione di auto, di automobili. L'industria automobilistica non può produrre per i rischi legati al coronavirus. Arcelor Mittal può tranquillamente. Questa è la realtà, signori cari, che piaccia o no. L'aspetto più inquietante è che il coronavirus aggredisce, ovviamente, soggetti che hanno una certa fragilità, anche a livello polmonare. E considerando le condizioni in cui operano i dipendenti, gli operai dell'ILVA, e quindi la fragilità, le patologie polmonari acquisite, diventano bersaglio facilissimamente aggredibile dal coronavirus. Questa è la realtà. Quindi l'operaio è di per sé fragile. L'operaio facilmente può essere aggredito dal coronavirus. L'operaio ha a che fare, ovviamente, con gli amici, non dico con gli amici, ma con i familiari, con moglie e figli. E immaginate cosa si può creare. Questa è pandemia. Pandemia che potrebbe... Non voglio che il mio sia procurato allarme, ma ci sono i presupposti perché davvero possa il coronavirus dilagare. Ma era prevedibile che il prefetto prendesse questa decisione. Il prefetto è promanazione del governo, del Ministero degli Interni. E se il governo, con quello scelerato del Premier Conte, ha dichiarato che ILVA può continuare a produrre, ha il Varselormittal, e può continuare a uccidere, potevate voi immaginare che il prefetto facesse un passo indietro? Doveva necessariamente uniformarsi. Auguri, Tarantini. Auguriamoci davvero che, a seguito di questa decisione, non ci ammaleremo tutti. Auguriamoci che il coronavirus non ci ammorpi, soprattutto qui a Taranto.